Grazie a tutti. Alteryx per la parte di data modeling e Tableau per la parte di analisi e visualizzazione dei dati. Recentemente abbiamo però deciso di aggiungere Snowflake alla nostra offerta nel campo dell'analisi dati e offrire quindi completare il nostro full stack analitico. Ecco, Snowflake è una piattaforma di data warehouse interamente su cloud e pensata ex novo per il cloud con un'architettura del tutto innovativa rispetto al data warehousing tradizionale. Crediamo che questo e ovviamente altri motivi la rendano ad oggi la soluzione migliore per gestire i propri dati in modo efficiente e anche intuitivo. In questo video tutorial e nei successivi che appunto seguiranno dedicheremo quindi del tempo a conoscere passo passo la piattaforma. Vi invitiamo pertanto a seguire il nostro canale in quanto una volta a settimana condivideremo con voi quello che avremo imparato sulle diverse funzionalità di Snowflake. In particolare il video di oggi sarà dedicato alla creazione di un account sulla piattaforma. Direi che possiamo iniziare. Come vedete mi trovo al momento sulla home page di Snowflake e come prima cosa volevo farvi vedere che Snowflake mette già a disposizione degli utenti delle risorse per far conoscere al meglio il suo prodotto. Qui appunto posizionandoci su resources troveremo una lista di contenuti e se clicchiamo su guides, quindi su guide, troveremo una serie di guide molto utili che ci permettono di scoprire appunto il prodotto passo passo. Nel video di oggi e nei successivi seguiremo questa guida qui, quindi Getting Started with Snowflake, Zero to Snowflake. È essenzialmente una guida suddivisa in 12 punti e quindi quello che vi suggeriamo di fare è creare un account di prova gratuita che vi consentirà di utilizzare Snowflake per 30 giorni consecutivi. Torniamo quindi alla nostra home page e vi mostro quindi come attivare una versione trial. In questo caso è molto semplice, basterà cliccare su questo pulsante Start for Free e a questo punto si aprirà una pagina in cui Snowflake ci chiederà di inserire i nostri dati. Quindi è quello che farò adesso. Ovviamente i campi verranno in questo momento oscurati perché contengono alcune delle mie informazioni. Cliccherò però a questo punto su Continue e successivamente Snowflake ci chiede come prima cosa quale delle tre versioni vogliamo scegliere. Vogliamo scegliere una versione standard, una versione enterprise e una versione business critical. In questo momento sceglierò la versione enterprise in quanto successivamente nei video vi mostreremo anche alcune delle funzionalità presenti nella versione enterprise. Successivamente Snowflake ci chiede di selezionare un cloud provider e in questo caso abbiamo la possibilità di scegliere tra i tre maggiori player sul mercato. Sceglieremo appunto AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. Sceglierò AWS perché è il prodotto che conosco meglio e anche perché The Information Lab è partner di AWS. Tra le region abbiamo la possibilità di scegliere tra queste region che vedete nel box. Io sceglierò EU, Frankfurt perché a livello appunto geografico è la regione più vicina a noi. Clicchiamo sul box in cui andiamo a confermare che abbiamo letto le condizioni e a questo punto siamo pronti per cliccare il pulsante Get Started. Snowflake ci dice che appunto l'account è in progress, ci vorranno comunque pochi attimi come vedete e riceviamo il messaggio di conferma che appunto l'account è stato creato e che abbiamo ricevuto una mail di conferma nel nostro account. Quindi quello che andrò a fare è andare a aprire la mia mail, anche qui i campi saranno oscurati, però ecco volevo farvi vedere che questa è la mail che abbiamo ricevuto. Clicchiamo qui su Click to Activate. A questo punto dobbiamo inserire uno username e una password a nostra scelta. Quindi come username inserirò il mio nome e una password dovrà rispettare i criteri che vengono descritti. A questo punto sono pronta per cliccare Get Started e dopo pochi attimi si aprirà appunto il nostro account. Snowflake ci dà il benvenuto tramite un piccolo box in sovraimpressione che in questo momento andrò a minimizzare. Vi mostrerò poi che sarà sempre possibile riaprirlo e inoltre come prima cosa nella URL vediamo che ritroviamo l'informazione appunto sulla nostra region selezionata, quindi EU Central 1. A questo punto per questo video mi fermo qui, vi invitiamo a seguirci nel prossimo dove vi mostrerò ovviamente il layout e tutte le principali funzionalità della piattaforma. A presto.